Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corecomo Piemonte. Ben trovati, sono il geometra Luisa Roccia, presidente del Collegio dei geometri di Torino e provincia e qui con me oggi c'è il segretario del Collegio, il geometra Rodolfo Meaglia. Io oggi vi parlo di formazione obbligatoria continua al quale noi geometri iscritti all'albo e che esercitiamo la libera professione siamo obbligati a fare. In cosa consiste la formazione obbligatoria? La frequentazione da parte di noi iscritti all'albo a dei corsi, a dei convegni, a degli eventi che nel triennio che quest'anno in particolare scade, nel 2023, dobbiamo raggiungere 60 crediti. Se questi crediti non vengono raggiunti siamo sottoposti a quella che è la convocazione in commissione disciplina. Pertanto questa formazione che ci porterà ad un livello di formazione e informazione produrrà ovviamente un lavoro nei confronti del committente assolutamente di qualità. È dal 2014 che siamo sottoposti a questa formazione obbligatoria e in effetti le prestazioni professionali sono qualitativamente migliorate. Non tutti i colleghi apprezzano il fatto di dover frequentare dei corsi, ma abbiamo visto che i risultati sono assolutamente soddisfacenti poi per il cliente finale. Abbiamo una sede che ci permette di organizzare dei corsi in Viato Selli 1, dove è la sede del collegio. A garanzia proprio di essere iscritti ad un albo c'è la frequentazione di questi crediti obbligatori da raggiungere. A questo punto non solo crediti professionali, ma anche crediti universitari possiamo fare e lascio la parola al segretario. Come stava anticipando il Presidente, dal novembre del 2021 noi abbiamo, tramite una legge nazionale, la possibilità di accedere a un corso di laurea specifico, per noi geometri liberi professionisti, della durata di tre anni, due anni relativi alla frequentazione anche online delle varie materie, l'ultimo dedicato al tirocinio, tirocinio da svolgere presso studi professionali, quindi non solo di noi geometri, così come avviene già adesso peraltro, ma anche nei confronti dei professionisti laureati, quindi ingegneri piuttosto che architetti. Tramite questo percorso noi possiamo ottenere una laurea professionalizzante, così come è stata definita per legge, tramite la quale noi possiamo operare sia sul nostro territorio nazionale, ma possiamo ambire anche ad avere delle attività al di fuori del territorio italiano e quindi poterci dedicare nell'eventualità anche a prassi lavorative da svolgere negli stati confinanti. Quindi questo è sicuramente un passo in avanti che deve essere anche un motivo in più, come stavamo dicendo, per condividere con le famiglie e con i loro ragazzi la possibilità di ottenere un titolo di studio performante e professionalizzante, assolutamente votato alla possibilità di operare e di lavorare in vari ambiti, sia appunto nazionali che internazionali. I crediti formativi universitari sono diversi, Praticamente un credito universitario della nostra attività professionale vale quanto 12 crediti universitari, quindi anche in questo caso c'è evidentemente la possibilità di fare un percorso inferiore per l'ottenimento. Ben trovati e un saluto da IAF, Piemonte, Valle d'Aosta, Antonio Dionisio, Associazione Italiana degli Avvocati della Famiglia, del cui consiglio direttivo sono componente. Sono l'avvocata Paola Carrera, vi parlo oggi di Riforma Cartabia, che ha avuto il merito di introdurre un unico rito nelle procedure minorili e di famiglia, rafforzando le garanzie del contraddittorio processuale e dando rilevanza alla figura del curatore speciale del minore, oggi disciplinata in modo organico all'articolo 473 bis.8 del Codice di Procedura Civile, norme tra le prime ad essere entrate in vigore essendo operative sin dal 22 giugno 2022. Ma chi è il curatore speciale del minore? È il rappresentante processuale del soggetto minorenne ed è anche il suo difensore, cioè l'avvocato o l'avvocata del minorenne di anni 18. Se di norma sono i genitori i legali rappresentanti dei loro figli nelle procedure giudiziarie che lo coinvolgono, può capitare che laddove si verta in tema di responsabilità genitoriale del suo esercizio e dei diritti relazionali, la posizione del genitore venga a trovarsi in posizione di conflitto di interessi, anche solo potenziale con quella del figlio. Ed è su questo che la novella Cartabia è intervenuta, colmando un vuoto normativo del passato e prevedendo tassativamente le ipotesi in cui il giudice oggi deve, appena di nullità degli atti del procedimento, nominare un curatore speciale al minore. Nullità rilevabile peraltro in ogni stato e grado del procedimento. Il legislatore altresì previsto una clausola di salvezza, facendo salva la possibilità per il giudice di nominare il curatore speciale al di fuori delle ipotesi in cui è obbligatorio, anche laddove i genitori siano, per gravi ragioni, temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del loro figlio. Il curatore speciale del minore interviene dunque nel processo, si costituisce nell'interesse del soggetto minorenne, porta la sua voce, ne veicola le istanze, le aspettative e i desiderata, mantenendo però sempre una posizione di autonomia e di indipendenza da tutti gli altri attori della vicenda processuale, autorità giudiziarie e servizi sociali compresi. Si tratta di un avvocato o un'avvocata con pluriennale esperienza nell'ambito del diritto minorile delle relazioni familiari, soggetto a costante aggiornamento professionale con una visione anche multidisciplinare, scritto in appositi elenchi da cui l'autorità giudiziaria attinge per la nomina. Il curatore speciale del minore ha un ruolo di grande responsabilità, dovendo rappresentare l'interesse della parte del processo più vulnerabile, cioè il soggetto minorenne, con il quale deve entrare in relazione di fiducia, lo deve anche ascoltare nelle ipotesi previste dalla legge, ma su questo passo la parola alla collega Alessandra Poli. Bentrovati, sono Alessandra Poli, avvocata componente del direttivo AIAF Piemonte-Valle d'Aosta Antonio Dionisio. L'ascolto è un diritto fondamentale del minore ed è contemplato tanto dalla normativa a livello nazionale quanto sovranazionale. Si procede all'ascolto del minore che abbia compiuto i 12 anni o sedetà inferiore che sia stato valutato come munito della capacità di discernimento. Procede al suo ascolto naturalmente non solo il curatore speciale, che è anche il suo difensore tecnico, ma anche l'autorità giudiziaria in tutti i procedimenti che lo riguardano. È uno strumento molto importante, potente, attraverso il quale il soggetto di minoretà può estrinsecare le sue prerogative di vera e propria parte in senso tecnico e far estrinsecare altresì la sua posizione, il suo pensiero, anche sui fatti di causa, portando di fatto all'attenzione del giudice anche il suo mondo interiore. Il curatore speciale del minore non è solo tenuto a far conoscere al giudicante l'espressione della volontà del minore, ma ha come obiettivo principe il cosiddetto best interest of the child e può realizzare il medesimo anche discostandosi da quelle che sono le domande dei genitori stessi e persino dal contenuto di taluni provvedimenti pregressi dell'autorità giudiziaria. Nella sua funzione il curatore speciale del minore svolge anche un ruolo di importantissimo raccordo rispetto al giudice e a tutti gli altri operatori della scena giudiziale, innanzitutto i servizi sociali, ma non solo, gli educatori, i responsabili delle comunità minorili, le neuropsichiatrie infantili e dell'età evolutiva, cercando sempre di preservare la propria indipendenza e autonomia e informando la propria condotta i principi deontologici, prima di tutto alla lealtà, alla competenza e alla correttezza. Grazie per l'attenzione e arrivederci. Buongiorno, sono Margherita Settimo, LAV Leganti Vivi Sezione, sede di Torino, ed è con me Marco Francone, il responsabile della sede. Siamo qui per un intervento dal titolo molto interessante, che è perché le persone hanno paura degli animali selvatici. Beh, come prima risposta io direi perché non li conoscono bene, se ne sente parlare, se ne sente parlare male, si leggono di esperienze che sono molto, molto strumentalizzate e anche un po' sensazionalizzate, ma l'importante è cercare di capire e di conoscerli. Quando è che l'uomo può arrivare in situazioni rischiose, può mettersi in situazioni rischiose? Quando appunto non li conosce, quando sta nei suoi territori, nei suoi ambienti, perché il mondo comunque è di tutti noi e quindi dobbiamo imparare a coesistere e a convivere con loro senza disturbarli e quindi senza andare a infilarci in situazioni che possono assolutamente essere rischiose per la nostra persona e rischiose per l'animale stesso. Per esempio, inseguire, come è anche già successo, è già riportato, una cucciola con degli orsi, una mamma cinghiale con i suoi piccoli. E come dobbiamo educarci a comportarci, come noi dobbiamo portare il rispetto verso di loro. Quindi ci sono dei comportamenti precisi che dobbiamo studiare e quindi non c'è nessuna paura da avere, ma esclusivamente bisogna sapere. Sapere cosa fare e sapere di loro. E sapere di loro è molto interessante, perché i lupi, ad esempio, hanno delle gerarchie sociali e degli equilibri familiari di forze, di affetti, da cui dovremmo imparare. Ma ora lascio la parola a Marco, che vi racconterà ancora più nel dettaglio tutto ciò che potrete sapere e che vi servirà. Non bisogna generare paura nei confronti dei selvatici, ma che siano cinghiali. Se si avvicinano alle abitazioni, magari è perché abbiamo lasciato del rifiuto organico abbandonato vicino alle nostre abitazioni, però basta fare un po' di rumore e spaventarli e non creano problemi. E se ci avviciniamo troppo a una madre con i suoi cuccioli, evidentemente il problema è che cerca di difenderli, però se noi facciamo rumore se ne va. Ecco, è così per quanto riguarda i lupi. I lupi non è che si avvicinano a noi, hanno paura dell'uomo. Semmai si avvicinano, se ci sono dei cani, ma i cani normalmente difendono il territorio dai lupi. Non bisogna creare paura nei confronti dei selvatici, perché i selvatici sono importanti nell'ambiente naturale e dobbiamo imparare a convivere con loro per poter garantire una vita serena negli ambienti naturali. Ci sono dei modi per allontanarli, se proprio è necessario, per proteggere le nostre abitazioni o anche le coltivazioni di animali selvatici senza danneggiarli, ma tenendoli solo lontani. E possiamo poi, se avete la necessità, di saperne di più. Ovviamente noi abbiamo tutta una serie di materiali per i cittadini, ma anche per le scolaresche che potete venirci a chiedere. È assolutamente gratuito, che abbiamo realizzato anche in collaborazione col Ministero dell'Istruzione. Quindi cerchiamo di diffondere una reale convivenza nei confronti degli animali selvatici. Praticamente l'importante è non pensare che siano nostri nemici. Sono gli animali che devono poter avere la loro vita e noi dobbiamo poter andare nei boschi, nei prati e non abbiamo paura di loro. Semmai abbiamo più paura di essere umani con il fucile piuttosto che degli animali selvatici. Allora arrivederci, vi salutiamo e grazie di tutto. A presto, vi aspettiamo alla Lab. Ben trovati a tutti e grazie per ascoltare queste brevi parole. Oggi parliamo di lavorare con una malattia reumatica che vuol dire sostanzialmente sopportare durante l'orario di lavoro tutte le problematiche che sono legate alle difficoltà di movimento e al dolore che accompagna le persone che soffrono di malattie reumatiche. Parliamo di problema che affligge circa 300.000 persone a livello Italia e che in sostanza provoca una perdita di produttività valutabile in quasi 2 miliardi di euro. Le ore di lavoro che vengono perse per colpa delle malattie reumatiche ricordiamo che sono oltre 150 sono circa 23 milioni e il problema fondamentale è che queste patologie sono la seconda, anzi la terza causa di invalidità dopo le malattie cardiovascolari e i tumori. Quindi l'impatto che hanno sulla vita lavorativa è veramente molto intenso considerando anche che colpiscono principalmente nella fascia di età tra i 25 e i 60 anni. Quindi in piena attività lavorativa. Che dire, lavorare con una malattia reumatica comporta spesso degli adattamenti che noi cerchiamo di fare e che contrastano molto spesso con quelle che sono le mansioni che svolgiamo per cui è probabile che si tendano a mascherare tutte le difficoltà che vengono vissute semplicemente per evitare di essere passati ad altri incarichi o addirittura di vedere ridotto il proprio impegno lavorativo. Eppure basterebbe veramente molto poco come ad esempio consentire un'interruzione ogni 10-15 minuti per fare un minimo di stretching o di veramente alzarsi dalla sedia per sgranchirsi le gambe per risolvere molto spesso queste patologie. Voi pensate a una persona che faccia lavori di polizia a livello condominiale o a livello domestico e che debba convivere con una malattia che impedisce il movimento delle spalle piuttosto che delle anche. Pensate alle difficoltà che deve fare per riuscire a mantenere il proprio posto di lavoro. Eppure in Italia sono soltanto le associazioni Amar Piemonte nella nostra regione Amar a livello Italia a portare avanti queste problematiche queste istanze e a cercare di coinvolgere le associazioni di imprenditori perché ci sia effettivamente una maggiore attenzione nei confronti delle persone affette da malattie reumatiche. Saremmo veramente molto lieti di poter utilizzare i dati che ci vengono forniti da IMS e INAIL perché effettivamente loro sono molto disponibili a fornire questi dati per fare in modo che magari la nostra regione possa essere un esperimento la prima regione in Italia a condurre una politica di estrema attenzione nei confronti di queste patologie seguendo un pochettino quelle che sono le direttive europee e quindi consentendo di fare dei progetti dedicati all'inserimento lavorativo delle persone con malattie reumatiche e al mantenimento dell'occupazione di chi già un lavoro ce l'ha. Questo perché assolutamente ci teniamo a fare in modo che anche i giovani che si uniscono alle associazioni ma che hanno malattie reumatiche possano intraprendere una carriera lavorativa piena e completa e non debbano fin da subito cercare di nascondere la propria malattia o far finta di niente e di arrivare a casa in condizioni tali da non avere più nessuna voglia di muoversi e dimenticare quella che è la vita sociale affettiva e di intrattenimento. Quindi lanciamo questa palla sperando che le associazioni degli imprenditori ci ascoltino e si facciano vivi per creare dei progetti comuni. Ben trovati mi chiamo Gloria Paci sono la presidente dell'associazione protezione diritti e libertà privacy APS quest'anno noi proponiamo per la seconda edizione il progetto ambasciatore di privacy sicurezza informatica quindi un progetto un percorso formativo gratuito dedicato alla scuola e quest'anno questo progetto formativo che ha ottenuto un grande successo si è ampliato insieme al progetto che si chiama dell'RPD dello studente ricordiamo che è responsabile della protezione dei dati personali questo è l'acronimo con cui si viene definito l'RPD il punto dello studente una figura che è stata introdotta dal regolamento europeo nel 2016 679 quindi il regolamento che disciplina il trattamento dei dati a livello europeo il responsabile della protezione di dati personali altro non è che una figura che ha il compito di vigilare sulla corretta gestione degli adempimenti all'interno delle organizzazioni e noi quest'anno formeremo il responsabile della protezione dei dati di dati personali di dati personali quindi una figura importante noi invitiamo quindi i dirigenti scolastici a iscrivere a questo percorso formativo per formare appunto l'RPD dello studente tutti i ragazzi che hanno manifestato la volontà di diventare dei rappresentanti di istituto o di classe il nostro progetto è un percorso formativo gratuito come si diceva ed è un percorso che arriverà a formare queste figure che avranno il compito questo è il responsabile della protezione dei dati dello studente affiancherà quello che è il responsabile effettivamente individuato all'interno dell'istituto anche sarà colui che riuscirà a cogliere dai compagni quelli che sono i problemi legati alla protezione dei dati personali ora lascio la parola Sergio Chiarla che è uno dei nostri soci appunto del Piemonte lui sarà anche uno dei docenti che interverrà al progetto degli ambasciatori di privacy quindi e dell'RPD dello studente gli lascio con piacere la parola e grazie a tutti grazie Gloria e l'intervento mio riguarda i due progetti che l'associazione di cui io sono volontario che è l'associazione protezione diritti e libertà privacy APS sta realizzando presso le scuole italiane il primo progetto è ambasciatori di privacy e di sicurezza informatica sono ormai quasi vent'anni che il sottoscritto gira l'Italia nelle scuole per spiegare ai ragazzi ai docenti e ai genitori quando ci sono quali sono le problematiche tecnologiche e soprattutto come ci si deve comportare in un ambito operativo nel mondo di internet questi discorsi attualmente sono comunque estremamente importanti perché l'educazione tecnologica sta diventando un elemento fondamentale nella crescita dei nostri ragazzi e poi nell'applicazione professionale quando andranno nel mondo del lavoro il secondo progetto è l'RPD dello studente che cos'è l'RPD è sostanzialmente il data protection officer che tutte le scuole hanno e vorremmo portare questa figura anche presso gli studenti ossia fare un corso di formazione ai ragazzi in modo tale che crescano o cresca per meglio dire la cultura tecnologica e soprattutto della privacy dei ragazzi in modo tale che i ragazzi possano interfacciarsi in modo corretto con l'RPD della scuola tutto questo viene fatto con dei corsi online e vedete nell'indirizzo email al quale potete rivolgervi e iscrivervi a questo corso vi ringrazio e alla prossima puntata ben trovati siamo con Roberto Sardo presidente regionale Piemonte dell'associazione nazionale fra lavoratori mutilati ed invalidi del lavoro ANMIL come conosciuta in tutta Italia per parlare dell'attività che l'associazione svolge da ormai 80 anni per la tutela delle vittime del lavoro presidente di che cosa si occupa esattamente l'ANMIL presente in Piemonte come in tutta Italia allora salve allora l'ANMIL è nata il 19 settembre del 1943 per aiutare le vittime del lavoro ed avere una più adeguata assistenza da parte dell'INAIL e il giusto riconoscimento dei danni riportati a causa di un infortunio sul lavoro l'associazione ad oggi raccoglie circa 270 mila iscritti tra invalidi del lavoro lavoratori che hanno contratto una malattia professionale oppure familiari di caduti sul lavoro offriamo assistenza attraverso le nostre sedi associative che sono presenti in tutta Italia in tutte le province in tutte le regioni quindi compreso anche il Piemonte ma in questi anni il mondo del lavoro è molto cambiato e la legislazione in materia di risarcimenti si è molto evoluta in ogni caso è inoltre da considerarsi unico perché i problemi possono essere dei più diversi più disparati ad esempio c'è chi riporta mutilazioni per cui necessita di protesi o ausili oppure chi a causa di una malattia professionale ha bisogno di cure che evolvano appunto con l'aggravarsi della malattia col passare del tempo e noi tuteliamo soprattutto queste persone perché non vogliamo che si sentano sole ed abbandonate infatti il drama delle morti sul lavoro non accenna ad abbandonare le pagine delle testate nazionali e locali il rischio forse già avverato sì è che queste notizie diventino abitudinarie per le nostre coscienze su cosa è importante presidente puntare per dare un'ancor più forza al messaggio di prevenzione ma uno dei principali punti di debolezza della legge 81 del 2008 che ha completamente rivisto le norme sulla prevenzione prevede appunto una formazione burocratica e molto nozionistica che si è rivelata il più delle volte insufficiente se addirittura non inefficace per questo riteniamo oggi più che mai che sia importante proseguire l'impegno che ormai portiamo avanti da 25 anni con iniziative che sono volte a diffondere la sicurezza sul lavoro nelle aziende e nelle scuole di ogni ordine e di ogni grado quindi per questo stiamo adoperando un po' con tutte le istituzioni affinché il ruolo della testimonianza venga riconosciuto in quanto capace comunque di coinvolgere emozionalmente sia gli studenti che i lavoratori quindi ad acquisire una nuova consapevolezza sui rischi che si corrono nei posti di lavoro e come si possono organizzare le giornate informative con i vostri testimoni al formatore della sicurezza ma il fatto che la nostra associazione abbia comunque sedi in tutte le province del Piemonte come tutto il resto del paese ci consente di recarci un po' ovunque quindi ci rivolgiamo alle scuole di ogni ordine di ogni grado nonché alle aziende sia piccole che anche magari un po' più grandi affinché ci contattino per conoscerci meglio e poter avviare questi incontri che sono davvero toccanti e sono di sicura efficacia ringraziamo il presidente Roberto Sardo e per qualsiasi necessità vi invitiamo a cercare le nostre sedie e i nostri recapiti sul sito www.anmail.it oppure chiamando il numero verde gratuito 800 1-80-943 da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18 grazie per averci seguito i programmi di Rai3 riprendono ora a diffusione nazionale buona visione grazie per aver guardato